Fasma, allora il primo Sanremo, ma il primo tutto in realtà. Sì, prima emozioni, prima ansia, prima volta che si saliera sopra quel parco. Senti, ma è bella l'ansia alla fine? L'ansia è pazzesca, credo che sia quella che ci ha portato qua e la devo ringraziare e allo stesso tempo credo che sia la mia più grande fortuna e la mia più grande condanna perché è grazie all'ansia se poi stiamo qua e perché ci fa mettere sempre in dubbio, perciò ci fa evolvere. Chi è che ti ha detto che sei un pazzo a fare questa faccenda di andare a Sanremo? Io sicuramente, me lo sono detto da solo, però mi hanno già preventivato un po' la situazione. L'avevamo detto che tanto eravamo là per portare la nostra musica, perciò siamo pronti a tutto, sinceramente. Senti, credi che l'impatto col grande pubblico, cioè sarà una delle occasioni in cui molta gente che non sa che musica fate, voi della vostra generazione, scoprirà un suono completamente diverso. Che effetto può fare a mia nonna, pubblico medio di Sanremo? Io credo che la musica sia un linguaggio universale, perciò io spero che arrivi l'emozione, perché è quella che ci ha portato a stare sopra questo palco. Io credo che l'emozione sia, come ho detto, un linguaggio universale, perciò spero che possa arrivare a tutte le età e anche a chi non parla italiano, magari. Senti, ieri ti è piaciuto, hai visto il festival? Sì, l'ho visto. L'avresti visto a casa? Sinceramente non lo so, non te lo so dire, ma non peraltro perché mi mette anzi anche a guardarlo se non ci sto, perciò pensa, ora che ci stavo, ieri stavo a cena che ho lasciato la cena, perché più lo guardavo e più facevo, io starò là, oddio. Però ecco, me lo vivo, me lo devo vivere, cioè è la mia prima volta su cui prego il palco e perciò stiamo per mettere la nostra firma. Senti, hai l'occasione di fare una cosa che normalmente un artista non fa, cioè spiegare la propria musica perché è insensato, ma che pezzo è quello che sentiremo di Fasmo? È un pezzo che credo che possa rappresentare la nostra musica e far capire quanto sia naturale. Credo che non c'era una maniera migliore che presentarci con questo pezzo, che a volte sai, qua si fanno molte interviste, ci si perde molte parole, mentre la cosa più bella è che noi siamo venuti qua per presentarci con la nostra musica, perciò se abbiamo tre minuti sopra quel palco non c'è cosa migliore che presentarsi con una canzone.